Damiano, l'hai visti anche tu, i tuoi passaggi, è peggiorato un pochino? Sì, è peggiorato due decimi, quindi alla fine ho fatto piede con lo stacco 0-25, quindi alla fine è quasi lo stesso tempo. Sicuramente siamo stati in gara e siamo giocati fino all'ultimo, penso che nessuno di noi non si è risparmiato assolutamente, tutti e quattro, compreso il capitano Pippo Magnini, abbiamo dato il massimo e io l'altro anno a Barcellona ho fatto 48-8, io ho fatto Stantina 7-9, adesso 8-2, quindi è ovvio che i tempi ormai ci sono quelli, è ovvio che la prossima volta sicuramente andrà meglio, i loro due sono giovanissimi, io mezza età, Pippo è un grande campione che ormai comunque ha i standard verso 1-47, quindi penso che anche in visione futura sarà una staffetta che può dare molto. Grazie Damiano.